Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Clash Royale per andare a provare un deck che per me è particolarmente speciale. Il deck in questione è questo qui e non è altro che è un Logbait, uno dei deck che andava tantissimi anni fa ragazzi, eccolo qui, è che io utilizzavo spessissimo. Quando ai tempi scalavo seriamente su Royale, scalavo proprio con questo, oltre che con questo qui del Golem, che però purtroppo ormai sono due deck che non funzionano più così tanto bene. Qui perché l'estrattore di lisiero ormai è fuori meta e di qua perché ormai si utilizza moltissimo la trivella goblin e tutta un'altra serie di carte che quindi vanno a counterare facilmente questa tipologia di deck. Però in giro ho visto utilizzare molto spesso questo di deck che è una sorta di fusione col domatore, quel Logbait classico col domatore. Ora, vorrei un attimino ritoccarlo, però proverò a tenerlo così quanto più possibile perché non mi convince troppo la Palla di Neve, che è una carta che utilizzo pochissimo. Però ho visto che tutti la utilizzano in questo deck e quindi direi che lo andiamo a provare in questo modo. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Vi ricordo come al solito di supportarmi nel negozio di Clash Royale col mio codice creatore GGYT, tutto attaccato. Mi raccomando ragazzuoli, è davvero fondamentale per supportarmi. Lasciando un bel mi piace per questi video in cui andiamo a provare deck sostanzialmente, quindi direi almeno 5.000 like. Ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. E noi abbiamo appena beccato quello che è il mio incubo, ovvero un livello 12. Maledizione ragazzi, sti livelli 12, quanto li odio. Uh, così, debotto. La domatrice di Arieti. Va bene, va bene, ci arrivano un po' di hit da parte di Pipistrelli. Sì, quel bombarolo probabilmente glielo lascio hittare. E andiamo subito di domatore. Vediamo, uh, una valchiria. Quindi qua... Ah, mi sa che era meglio giocarla, la palla di neve. Mi sa che era molto meglio giocarla la palla di neve a quel punto. Però va bene, va bene, va bene. Non ne facciamo un dramma. Andiamo di cavaliere a bloccare immediatamente la valchiria. E il drago infernale può essere un problema, ragazzi, perché noi non abbiamo praticamente carte che hittano i nari. Oh mio Dio. Ah, facciamo una cosa, va. Andiamo in attacco. Andiamo in attacco, facciamogli usare un po' di Elisir in difesa. E abbiamo recuperato un pochino. Allora, quel bombarolo, ragazzi, è un grosso problema per noi. Quel bombarolo è un grosso, 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 grosso problema per noi. Purtroppo sì, purtroppo sì, però siamo riusciti bene o male a difenderci. Ora. Sì, ok, va benissimo. Va benissimo. Questa cosa non va benissimo, quindi dobbiamo giocare una principessa da dietro. Ok. Qua sono un pollo io. Qui sono un pollo io che gli permetto di utilizzare la veleno per farmi fuori la principessa e far danni alla torre in cui lui mi ha fatto più danni. Questo è un bel problema. Allora, io proverai a fare una serie del genere e lui utilizzerà la valchiria. Così gliela faccio un attino utilizzare la valchiria. No, va di bombarolo. Che in realtà può anche andare bene, però gli volevo far sprecare la valchiria. Io vado di torre infernale, tantunque il deck lo giriamo abbastanza rapidamente. Mettiamo un cavaliere da dietro a questo punto. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Tecnicamente l'automatrice da Redi la dovremmo riuscire a bloccare. Andiamo anche così con un domatore. Due hit dovrebbe riuscire a darle. Forse anche una... Non lo so, non ho visto quanti hit ha dato esattamente. Io vado di torre infernale, ragazzi, per cercare di fermare un attimino il tutto qui. Distraiamo, per quanto possa essere possibile, valchiria e bombarolo. Lui va con la veleno. Andiamo di barile goblin, ragazzi. Noi adesso non abbiamo un incantesimo che possa far tanto, tanto danno alla torre. Quindi dobbiamo farla un po' a mano, tra virgolette. Passatemi il termine. E vediamo un po'. Vediamo un po' se ci riusciamo, ragazzi. Allora, lui li ha utilizzato la valchiria. Prima ha dipeso col bombarolo. Quindi in realtà per il drago infernale possiamo andare anche tranquillamente con... Con la gang. Senza troppi problemi. La principessa la metterei da questo lato. Ok. Ok. Va bene. Io vado così, ragazzi, per... Per fermarla. Raga, io provo una cosa del genere. Può essere una buona strategia? Dai! Va bene, un'altra hit l'ha data. Raga, due hit l'ha date. Però lui sta facendo danni alla torre, eh. Noi dobbiamo stare molto attenti. Noi dobbiamo stare molto, molto, molto attenti. Aia, sta veleno. Fa male. Sta veleno, fa male. Io sono costretto a giocare un'orda un po' così. Vado di Barile Goblin. Tecnicamente abbiamo vinto. Tecnicamente abbiamo vinto e ce la portiamo a casa, ragazzi. E io ho sfatato anche il mito della mia maledizione contro i livelli 12. Questo era pure coreano. Quindi, insomma, una vittoria che ha un bel sapore, ragazzi. Let's go. Andiamo con la prossima. Non mi sta dispiacendo per nulla. Ma un altro livello 12. Basta livelli 12. Li odio. Li odio i livelli 12, ragazzi. Basta. Sono la mia maledizione. Oddio, ragazzi. Quanto fa... No. No, ragazzi. No. La strega madre, no. La strega madre, no, ragazzi. Quanto farà male, ragazzi? Non avete idea. Quanto farà male questa strega madre? Non avete idea. Mannaggia, la miseria. Cioè, avendo io tante carte che spammano truppe... La strega madre è un bel problema. Eh, io devo usare l'orda di scheletri e la gang di goblin con parsimonia. Guarda, guarda che ha fatto lo spiritello elettrico, regà. Fortissimo. In mezzo seconda ha fatto fuori tutto. Mamma, soffriremo un botto, regà. Soffriremo un botto perché io la torre inferno la devo utilizzare per il suo gigante royal. E per difendermi dalla strega madre devo utilizzare il cavaliere. Sì, per forza così devo fare. Assolutamente. Devo fare assolutamente così, come ho appena detto. Ora io qui riparto col cavaliere e quindi giocherei un bel barilotto. In realtà a me può anche andare bene così. Giochiamo una palla di neve per far fare più danno al goblin e per hittare comunque il mega sgherro che può essere sempre un bel problema. Facciamo anche così. Lui usa la fireball. Adesso potrebbe ripartire con la strega madre? No, perché me li fa fuori tutti il mega sgherro e vi dirò. A me va bene così. Anzi è meglio che lui abbia fatto fuori così perché io devo cercare di spammargli meno truppe possibili. Ok. Vi dirò. Io glielo rispammo un po' così. A me va benissimo, il pescatore non mi crea troppi problemi. Va benissimo così. Vi dirò, vado subito di torre infernale. Perché tanto lo sapevo. Perché tanto lo sapevo e lo sapevo anche quest'altro ovviamente. Però almeno gli abbiamo fermato lì il coso, come si chiama. Lo spiritello elettrico, regà. Non mi veniva spiritello elettrico. Io qua devo andare di nuovo di torre inferno perché se no prendo troppe hit. Troppe hit. Troppe hit. Fatemi fuori quella strega madre, per favore. No, regà. Mi fa un sacco di danni. Mi fa un sacco di danni qui. Forse riesce a recuperarla. Eh sì. Vedete, regà, la strega madre? La strega madre la sta per vincere sta partita. Io gioco tipo un domatore qua. No, niente, scherzavo. Volevo fermare in tutti i modi il suo attacco, ma... Eh, vabbè, sì. Eh, vabbè. No, l'ho sprecata. Che pollo che sono stato qui, regà. Non andava giocata qui la gang. Eh, vabbè, la rigiocata. La rigiocata. Allora, andiamo così. Facciamo così. Regà, cioè, purtroppo, a un certo punto devo giocarle, perché se no... Eh, regà, no, non ce la faccio. Non ce la faccio. Col gigante royale lì non ce la posso fare. Col gigante royale lì non ce la posso fare. Regà, sta partita l'abbiamo perso unicamente per la strega madre. Cioè, io dovevo cercare di counterarla col cavaliere, ma lui era bravo a metterla sempre insieme al pescatore. Quindi il pescatore tirava via il cavaliere. E la strega madre andava sull'orda di scheletri o sulla gang. È veramente un problema per questo deck beccarsi la strega madre. Cioè, penso sia la peggior carta che si possa beccare contro. Perché poi ti spamma tutti quei maiali. Noi abbiamo perso unicamente per quella, regà. Però ci sta, ci sta. Il deck era studiato per quello, il suo, quindi ci può stare. Allora, qui già ho visto un paio di criticità. La valchiria e la fornace. Non avendo noi delle carte... Eh, vabbè, però pure i pipistrelli. Vabbè, abbiamo la palla di neve per quelli. E comunque anche la principessa se giocate in un certo modo. Dobbiamo sperare che lui non abbia troppe carte per counterarci questa e questa. Però sapete che io sto già pensando a qualche cambio al deck? Cambiare uno desti due? Perché soffre un bel po'. Soffre un bel po', purtroppo. Serve qualche altra truppetta. Allora, comunque, andiamo così. Andiamo anche di un barile goblin. Va bene. Quella valchiria può andar bene. Allora, distraiamola un attimino. Poi ci pensa la principessa a far fuori anche un po' la sua diorda. No, vabbè, anche gli scheletri stessi, in realtà. Possiamo anche pensare di partire con un domatore, eh. Lui non dovrebbe avere troppe lisir. E va bene, infatti ha dovuto sprecare la fornace. I pipistrelli glieli fa fuori la principessa e ci portiamo a casa anche una hit del domatore che sta per tirare una seconda. E abbiamo la principessa sotto torre. Mamma mia, regà, la princesa andando parte così è di un fastidio. È di un fastidio, ragazzi. Clamoroso. Allora, ripartiamo di un cavaliere. Andiamo di barile. Ok. Perfetto. Va bene anche quella valchiria. Non è un problema, Antonio. Guardate quel goblin lì su quanti danni sta andando a fare. Io, se non sbaglio, non ho ancora visto la truppa con cui pusha lui. Ce l'ha un tank? Non ce l'ha? Riparte solo con i barbari scelti? Che deck c'ha questo, regà? Perché io mica l'ho ancora capito bene. Io gli piazzo una principessa lì che farà fuori tranquillamente anche l'orda. No, perché ha piazzato i barbari scelti. Noi, la torre infernale aiutata da l'orda, regà, ovviamente fa fuori tutto in maniera abbastanza facile. Ok. Quella fornale... Ah, eccolo qui. C'ha il gran cavaliere. Però noi gli abbiamo fatto fuori la torre. Andiamo di una bella torre infernale. Ok. Lui è andato di un arazzo che sinceramente non ho capito. Io ho sprecato la gang di goblin, regà, ma l'ho proprio sprecata. Cioè non potevo giocarle in maniera più sbagliata, praticamente. Ma va bene così. Ma va bene così. Va benissimo. Giochiamo una palla di neve. Ci sta. Vabbè, ci sta, ragazzi. Dai, alla fine abbiamo vinto le due partite che dovevamo vincere e abbiamo perso la partita che potevamo perdere avendo svariate carte counter. Probabilmente anche la partita di prima, se l'avessi giocata leggermente meglio, ce la saremmo portata a casa. Forse sì. Però, anche così, mi ritengo soddisfatto. Forse, ragazzi, questo deck gli andrò a fare qualche modifica e potrei pensare di continuare ad utilizzarlo. Fatemi sapere voi sotto nei commenti che ne pensate. Come al solito, vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Clash Royale. Lasciate, appunto, un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Per me è tutto. Ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzi.